Si parla di dissidenti. Sì, stiamo parlando anche noi, pare che ci sia una dozzina, una dozzina importantissima di parlamentari del Partito Democratico che in queste ore stanno valutando, perché si stanno già atturando il naso da parecchi, siccome ormai se lo stanno triturando il loro naso, poverini, si stanno valutando di venire con noi. No, ma dissidenti vostri, dissidenti del Movimento 5 Stelle. Io vi sto dando una notizia, signor, che sono dieci mesi che... Se lei vuole che io gli dica sì, ci sono dissidenti, io dico, se lei si aspetta già una risposta, io le dico, le sto dando una nuova notizia, pare che ci sono una dozzina di parlamentari del PD che stanno valutando di abbandonare il Partito. Non lo so di che area, però probabilmente non saranno quelle vicine al nuovo unto del Signore. Quindi provate a indagare questa notizia. Ci dice dei nomi, anche solo uno? Dichiarato proprio che non se ne parla neanche di andare con Reina Reina. Anche viste, eccetera, non rimangono. Poi penso che se ci offrissero dieci, quindici ministeri, forse loro prenderebbero in considerazione l'idea. Però io vi invito seriamente ad approfondire questa cosa. Ci aiuta, ci fa dei nomi, delle anticipazioni? Perché purtroppo non abbiamo avuto dei nomi, ma sono voci. Deputati o senatori? Sono sarebbero deputati e senatori. Ma voi cosa fareste? Cosa fareste? I presidenti potrebbero uscire oggi nella direzione? Potrebbero dire qualcosa? Che vi hanno detto? No, questo non lo so. Ma voi li accoglierete? Come? Li accogliereste? Scusa, che cosa? I dissidenti del PD li accogliereste? Dobbiamo parlarne. Dobbiamo parlare.